Musica Ciao amici e benvenuti in Edwin's Chunker Sacchi di cene abbuffate che vi rendono appesantiti? Abbiamo noi il rimedio Una soluzione trionfale a base di alloro Signore e signori, ecco voi l'allorino Vai con gli ingredienti 50 foglie di alloro 750 ml di alcol puro a 90 gradi 500 grammi di zucchero Un litro di acqua naturale Come prima cosa mettiamo in infusione le foglie di alloro in alcol a 90 gradi Chiudiamo ermeticamente e lasciamo riposare per due settimane Trascorsi 15 giorni avremo una miscela di colore verde smeraldo In una pentola a fuoco basso facciamo sciogliere lo zucchero nell'acqua Basteranno pochi minuti per ottenere uno sciroppo Lasciamo raffreddare e uniamo la miscela di alcol e alloro precedentemente filtrato Versiamo il composto ottenuto in una bottiglia e lasciamo riposare La preparazione dell'allorino è terminata Con le dosi che vi abbiamo dato otterrete circa due litri di liquore Non ci rimane che ricordo di un luogo buio per circa due settimane Dopodiché sarà possibile consumarlo Quindi ciao E alla prossima